C'è un caso per te. Un allievo? Esatto, si chiama Claudio. E dove vive? In Italia, a Roma. Roma! È molto tempo che manco da Roma, signor generale. È una bellissima città. Allora ti farà piacere tornarci. È un posto dove ci hanno sempre tenuto in grande considerazione. Come avete detto, che si chiama questo mio futuro allievo? Si chiama Claudio. Uriel, che succede? Stai barcollando? È stato il cambio di densità, signore. Adesso è tutto a posto, grazie. Molto bene. Ma Claudio dov'è? Eccoli, il tuo Claudio. È quello lì. Sì? Ma ne siamo sicuri? Stai contestando un tuo superiore? No, 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 assolutamente no. Mi sembra solo un po' troppo interessato alle donne, per fare al caso nostro. In questo momento è così. Ma entro poco tempo Claudio si rivolgerà al cielo e griderà forte la sua preghiera. Una preghiera che sarà esaudita. A quel punto sarà pronto per iniziare il suo tirocinio con te. Vi sembra adatto? Certo che lo è. Ma ancora non lo sa. Pensa ancora che sedurre una donna al giorno sia il massimo della felicità. Ma? Perché non si è ancora mai innamorato. Io vado. Dove? A correre. Mi lasci da sola? Beh, abbiamo passato una bellissima notte insieme, no? Scusa, cosa faccio io? Che fai? Ti asciughi, ti rivesti e te ne vai. Ah, mi raccomando, tira bene la porta che è un po' difettosa. Ma sei difettosa te, cafore! Ah, per il letto non ti preoccupare, ci pensa la donna. Signor Cancellotti, qui l'acqua ha puzzato che ho marcio. Quando si decide a cambiare le tucature, no, dico, guardi questo tucco, questa tra un po' scoppia. Va bene, lo cambieremo, eh, promesso. Sì, sì, e dobbiamo rifare anche l'impianto elettrico che non è a norma. Va bene, ne parliamo alla prossima riunione di condominio. Ma se non ne fanno mai, se non ho il mio condominio, negli appartamenti sono tutti suoi. Ragazzi, facciamo ripulire anche il cortile, così i nostri figli possono giocarci. Certo, vi faccio pure un bel cappetto da calcio, eh. Dai, Claudio, che ce la fai anche oggi. Che lo difendi? Che cosa devo fare, mio mio amico? Bravo, bravo. Grazie. Sabe, eh? Cosa fai? Dai, apri sta porta, Cosima. Oh, ehi, tu non ci puoi stare qua, eh. Tia, forza. Anselmo, l'ultima volta che te lo dico, eh, questa donna non ci può stare qui dentro. Sicuramente il principe, guardi che è una brava persona. Ho capito che è una brava persona, non ci può stare, non può vivere dentro questo cortile. Proprio tutto sto casino. Tanto me ne stava là. Brava, vai, allora vattene, va. Ehi, che stai facendo? Ma me la spondi così, no? Dai, vai, vieni a vederla. Non te va a vedere, eh. Quando torno non ti voglio più vedere, eh. Buongiorno. Oh, oddio, la forza. Ehi, fermati! Ma che vuoi, lasciami! Sono un vicequestore di polizia, non fare resistenza sarà meglio per te. Chiaro? Sì. Tutto bene? Sta bene? Benissimo, grazie. Può darmi le sue generalità? Sì, Claudio Cancellotti. Perché hai rifiutato il ricovero? Perché sto bene. Meglio farsi degli accertamenti. Un pugno in faccia può creare un'emorogia interna. Beh, veramente sono stati i tuoi occhi e il tuo sorriso che mi hanno steso. Non quel pugno. Ma tu ci stai provando con me? Ehm... Sì. Ah. Potresti apprezzare almeno la sincerità, no? Io l'apprezzo sempre. Aspetta, aspetta un attimo. Quando possiamo rivederci? Mai. Sono una donna impegnata. Non è vero. Io le riconosco subito, le donne impegnate. Hanno un luce diversa negli occhi. Ah, sì? E che luce ho io negli occhi? Una luce molto particolare. Grazie. Scusami, ho da fare. Aspetta un attimo. Ho preso un pugno in faccia per te. Se non fosse stato per me non l'avresti neanche arrestato quello lì. Almeno un'insalata potresti concedermi, no? Va bene. Ma solo per quel motivo. E nessun altro. È chiaro? Chiaro. Vincenzo, una carta di vini, grazie. Ecco, sono il pregine. Sono astemia. E allora un mio solito rosso, un bicchiere, grazie. Prego. Non fumo, grazie. Beh, ero certo. Grazie, Carlo. Una salutista. Anzi, un'atleta. A giudicare da com'è steso quello scippatore. È il mio lavoro. Sono sotto allenamento perché domenica un radunno di free climbing. Arrampicata? Eh, sì. E tu di che cosa ti occupi nella vita oltre ad avere dieci appartamenti in via dei coronari? Come fa a saperlo? Lavoro in polizia. Secondo te esco con un estraneo se non prendo prima delle informazioni? Signor Principe Cancellotti? Sei proprio tutto di me, eh? Tutto no. Ho capito che di sicuro non ti alzi presto la mattina. Quasi mai. Ma non è un reato, no? No, no, no. Beh, ma magari chi nasce ricco potrebbe aiutare coloro che hanno bisogno. Sai, io penso che aiutare chi ha bisogno si fa soltanto un danno. Ah, sì? In che senso, scusa? Nel senso che gli togli la spinta a farcela da soli. Quindi, secondo te, la solidarietà umana non esiste? Solidarietà. Per esempio, a cosa sono serviti tutti gli aiuti ai popoli del terzo mondo? A niente. Soltanto a fargli credere che c'è qualcuno che pensa a loro. E gli abbiamo tolto lo stimolo a farcela da soli. Dai, retta a me. Se veramente vuoi aiutare delle persone che hanno bisogno, devi negargli un aiuto. Senti un po'. È in questo tuo mondo così altruista. Hai del tempo per dedicarti a qualcosa che ami? Beh, in questo momento vorrei dedicarmi a te. Abbiamo molto tempo a disposizione, no? Anche tutta la notte. Ma con chi cavolo pensi di parlare? Eh? Quante donne porti qui a settimana? Luisa, aspetta. La sciarpa. Luisa! La sciarpa. Grazie. Perché stai andando via così? Che stavo solo corteggiando. E questo è il tuo modo di corteggiare? È il modo più onesto possibile. Mi mostro per quello che sono, no? Uno che si compiace del suo egoismo. No, io stavo soltanto dicendo che le persone vanno... Che per risollevarsi devono... E questo è il mio modo di corteggiare, capito? Oh, oh, oh! Fermi! 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 Ehi, tutto bene? Vieni. Tutto bene? Sì. Ma li conoscevi? Sanno in classe con me. E dove abiti? Nel mio palazzo. Qui dietro. Dai, vieni. Non posso tornare a casa così. Ma che caso? Andiamo al pronto soccorso? Sì, andiamo. No, eh, no! Ma no, è un graffietto, dai. Niente, eh. Andiamo a casa mia, eh? Ti curo io, ti faccio tornare come nuovo. Che dici? Andiamo, dai. Eh? Andiamo. Vieni, vieni. E ti sei seduto pure lì. Claudio, scusami, i cerotti dove? Eh, guarda, è in cucina. No, 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 Michè, quello è un pezzo della collezione. Eh, dai. E dove sono? Eh, guarda, nel cassetto, lì in alto. Michè, prendete questi 20 euro e tornatene a casa. Vai, vai, vai. Ma mia madre non deve sapere niente, sennò si incazza. Non ti preoccupare, diciamo che sei caduto dalle scale, vai. Aspetta, aspetta, lo devo medicare. Ma che medicare? È un graffietto, eh. Ma che graffietto? Guarda che c'è in faccia, un graffietto. Michè, ti ho detto di non toccarla, eh. I videogiochi. No, questo proprio non lo devi toccà. Ma una partita. Una partita? Cioè, i videogiochi in camera. Vai, bellissimi. Aspetta, gli mettiamo il cerotto, no? Il cerotto si lo mette da solo, eh? Un momento, aspetta, volevo darti questa. Ecco, pane e cioccolato. Grazie. La tua giornata fortunata, eh. Tu ti sei approfittato di quel bambino per portarmi qui, vero? Il bambino? No. Dai, siamo maggiorenni tutte e due, no? Beh, hai ragione, sì. Chissà quante ne hai portate qui dentro di Maggiorenni. Beh. E quello? Che bel piano. Che gli fai, non suonatina prima di saltargli addosso? No, non so suonare. L'ho reeditato da mia madre. Era una concertista. Ci teneva così tanto che studiassi musica. Ma l'ho delusa. E quando l'hai persa? Avevo nove anni. Sono morti tutte e due in un incidente stradale. E tu? Sai suonare? Eh... Una cosa. Piccola. So, solo fino a qui era una nina nonna che mi suonava mio padre quando ero bambina. Scusa un attimo. Signor Cancellotti, stamattina è caduto questo pezzo di cornicione in cortile. Lo sapeva? No, non lo sapevo, ma si è fatto male qualcuno. Questa volta no, ma la prossima volta potrebbe scapparci il morto. Tutta la facciata è piena di infiltrazioni di muffo. Ecco perché se ne sta cadendo tutto. Signori, lo sapete che il palazzo è sotto la tutela delle belle arti? Io non posso toccare neanche una mattonella senza l'autorizzazione. Dai, su Claudio, questa scusa va avanti da troppo tempo. Così, ma ti ci metti pure tu? Tu che ci fai qui? Ma che è successo? Che hai fatto? È solo caduto. Niente. Io e te facciamo i conti a casa. Che è questo? Ma è il telecomando dei videogiochi. Ma un videogioco di chi? È mio, signora. Signor Cancellotti, corrompere mio figlio non aiuterà a risolvere la situazione. Noi non ne paghiamo più l'affitto finché lei non comincia i lavori di ristrutturazione del palazzo. Siamo tutti d'accordo. Buona giornata. Sì. Niente. Sta sempre. Ma ti rendo pronto. Questi pagano due lire d'affitto bloccato da trent'anni perché mio padre gliel'ha promesso per solidarietà. E questo è il risultato. Gli accalci li caccerei. Accalci li cacceresti? Eh? Stai mettendo in pericolo la loro vita. Pericolo? Io me ne vado. Guarda, vai. Aspetta, aspetta. Lasciami almeno il tuo numero, no? Ah, il mio numero. Vuoi il mio numero di telefono? E per che cosa, eh? Io te siamo il bianco e il nero. Io voglio un futuro. E tu vivi solo la giornata. Io lavoro per aiutare chi ha bisogno. E tu pensi solo a rendere felici le tue parti inferiori. Ma guardati. Ai quarant'anni sei ancora un bambino talmente viziato, talmente attaccato ai suoi giocattoli, che sei capace di strappargli di mano a un ragazzino. Aspetta, Luisa. Aspetta. Aspetta, non te ne vuoi andare via così. Cosa devo fare per rivederti? Niente. Ma ti consiglio di fare qualcosa per questo palazzo. E non per solidarietà verso gli inquilini. Ma per i rischi penali civili che corri. Aspetta, non te ne vuoi andare via così. Aspetta, non te ne vuoi andare via così. Sono per te. Te li regalo. Perché? Aspetta, si tenga sui giocattoli e non cerchi di corrompere il mio figlio, capito? Gliel'ho già detto. Io non voglio corrompere nessuno. Anzi, non mi crederà, ma ho deciso di fare i lavori del palazzo. Ma faccia riparare quel tubo, piuttosto, che fa un po' scoppia. Non ha capito, io faccio riparare tutto. Sono le sue solite balle. Claudio, tu non la prendi in giro. Quella ha già trascinato gli altri inquilini dall'avvocato. Fa sul serio. Anch'io faremo quei lavori. Che cosa hai detto? Mi hai sentito? E dovresti essere contento, visto che tua moglie mi fa le scenate davanti a tutti. Tanto Cosima troverà sicuramente qualcos'altro per starnazzare. Anche tu non sei da meno, eh? Le sento le vostre urla quando litigate. Ma che vi è successo? Ma amavate così tanto? Non ne voglio neanche parlare. Piuttosto, Claudio, senti, io come tuo inquilino, per carità, la prima cosa che ti chiederei è di ristrutturare. Ma come tuo commercialista, è proprio l'ultima. Ma perché? Tu non so se ti rendi conto di quanti soldi ci vogliono per ristrutturare un palazzo. Va bene, allora chiediamo un prestito, va bene? Diamo il palazzo in garanzia. Ma il palazzo è già ipotecato. Claudio, sono anni che tu vivi al di sopra delle tue possibilità. Guarda il tuo conto. Lo vedi quanto hai in banca? Undici mila euro. Poi scusa, spiegami una cosa, ma perché vuoi fare questi lavori? Stiamo tanto bene. Per solidarietà. Solidarietà. Tu? Ah. Ho capito, hai conosciuto una bella architetta. Te la sei rimorchiata, adesso la vuoi far lavorare, giusto? Non è un'architetta, fa il vicequestore di polizia. Agia, 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 no, polizia no, eh. Perché? No, 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 no. Perché la donna poliziotta è sempre ispida. Non è ispida, lei è meravigliosa. Ho capito, non te l'ha data. E tu adesso ti sei vissato. Non è per questo. Te l'ha data! No, ma non è per questo. Roberto, ascoltami. Lei mi ha toccato una corda dentro. E mi ha fatto capire che stavo sprecando la mia vita. Tu sei pazzo. Ma perché? Ho 40 anni. Sono stanco di vivere la giornata. Io ti capisco. E scusa, è questo? Oddio. Che cos'è? Un anello. Un anello? Eppure un anello? Ma quante volte l'hai vista? Due. E me è bastato. Due volte? Manco te l'ha data e tu le regali un anello? Io non so quanto mi sento felice. A proposito. Cos'altro? Domenica c'è un evento di free climbing. Free climbing? Sì, arrampicata libera. Ma da quando è che lo fai? È la prima volta. Le voglio fare una sorpresa. Le voglio portare l'anello qua. E dove l'hai conosciuto questo Claudio? Ma che sei, geloso? Ma no, figurati. Ero solo un po' sorpreso che vai a casa di uno che non conosci. Sì, lo so, ma mi ha tese una trappola. Però ti assicuro che non è il mio tipo. Ah, meno male. Senti, vabbè, io devo scendere. Torno in ufficio. Di già? Eh sì, non ho trovato nessuno che mi sostituisse al commissariato. Sai, il mio dirigente è una che non mi aiuta. Non mi fai sentire in colpa. Figurati, ci fossi mai riuscito. Aiuto! Aiutatemi! Ma chi è? Ma questo è pazzo. Aiuto! Chi è che ti fa sicura? Aspetta, non ti muovere. Fai esattamente quello che ti dico. Metti il piede lì su quello spuntone alla tua destra. Dove? Lì, alla tua destra. E non guardare giù. Guarda su, guarda solo noi. Bravo, così. Forza che ce l'hai fatta. Un altro piccolo sforzo, coraggio. Ora dammi la mano. Dai, dai che ce la fai, su. Grazie. Io soffro di vertigini. Ecco, è lo sport tuo questo? Infatti. Se vuoi io posso rimanere. No, no, vai pure, me la cavo da sola. Come vuoi. Io sono il Claudio. Ciao. Ma perché mi ha trattato in quel modo? Niente, è un poliziotto. Ma perché tutti i poliziotti fanno così? O magari perché c'è qualcosa fra di voi? No, non c'è mai stato niente fra di noi. Però lui forse avrebbe voluto. Non credo che siano affari tuoi. No. Ma perché sei venuto qui? Non capisce cosa hai rischiato? Eh, no, no, lo capisco, lo capisco. Ma allora perché l'hai fatto? L'ho fatto perché... Da quando ti ho incontrato... Ho capito che non voglio più vivere la giornata. E che voglio creare un futuro con te. Aspetta, eh. Ecco. Questo... È per te. Tu hai rischiato la tua vita per venire qui e portarmi un anello? Sì. Tu sei pazzo. Voglio avere una possibilità. Questo te lo riprendi. Mi va bene, scusa, non voglio metterti fretta. Ma dammi nemmeno un'opportunità, ti prego. Mettimi la prova. Ma non c'è niente di male se qualche volta usciamo insieme. Ascolta, Luisa. Quando vorrai, quest'anello sarà per te. E ti ricorderà di oggi. Anzi. Facciamo così. Voglio fare una foto insieme a te. Così quando la faremo vedere i nostri figli, si ricorderanno di questa giornata. Tu sei completamente pazzo, lo sai? Sì. Ecco. Senti, io vado a farmi questa via qui. Tu mi aspetti? Eh, certo. Certo. Senti, io vado a farmi questa via qui. Luisa, che fai? Luisa, attenta! Luisa! 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 No! Luisa! No! Luisa! 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 No, non è giusto! Non è giusto! Lei no! No! Prendi me al posto suo! Prendi me! Prendi me al posto suo! Veloce! 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 Dai! Luisa! Luisa! Non resisti! Dai, dai! Veloce! Ti prendi! Luisa! Lei deve aspettare qui! Mi dica almeno qualcosa! Se ha fede, preghi! Noi faremo il possibile! No! 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 Lisa! Claudio, Luisa non è mai stata qui. Ma come? Ce l'ho portata io dopo l'incidente? Non c'è stato nessun incidente. Da lassù hanno cambiato il corso delle cose. Luisa è a casa sua e domani sarà nel suo ufficio. Senti, io non so chi sei, ma se questo è uno scherzo, è di pessimo gusto. Mi scusi, devo denunciare la scomparsa di una persona. Si chiama Luisa Delbianco, lavorava qua. Ha avuto un incidente. La dottoressa Delbianco? Sì, sì, eccola. Luisa. Ma dove sono finite le ferite che avevi in faccia? Ci conosciamo? Certo che ci conosciamo. Ma chi è lei? Che cosa vuole? Luisa, per favore, sono Claudio. Tenga le mani a posto, io non la conosco. Ma come non mi conosci? Ho scalato una parete per raggiungerti. Ci siamo anche fatti una foto insieme. Guarda. Impossibile. Senta, questo è un commissario di polizia. O lei va via o io l'arresto. Questo salto nome che fa è arrampicata. Tu stai sicura che non lo conosci, eh? Lo faccio così e me lo ricorderei. Senta, questo è un commissario di polizia. Il mio aguto. Beh, che succede? Cioè, sono tre giorni che il cellulare è staccato. Dai, dimi la verità. Che cavolo hai combinato stavolta? Eh, anche se te lo raccontassi, non ci crederesti. Che c'è? Ti ho trovato un acquirente per il palazzo. Un acquirente? Un tizio pieno di soldi. Ma di chi stai parlando? Io non ho mai pensato di vendere questo palazzo. Lo so, è stata un'idea mia. Cioè, io dovrei vendere un palazzo che appartiene alla mia famiglia da 500 anni. Se davvero lo vuoi ristrutturare, l'unico modo è venderlo. Questo qui ti lascia l'attico e paga lui i lavori. E con tutti i soldi che ti metti in tasca, è la volta buona che vivi veramente come un principe. E per sempre. Voglio essere franco con lei, signor Cancellotti. Anzi, mi scusi, principe Cancellotti. Mi chiami Claudio. Claudio, le condizioni dell'immobile sono pessime. Ma la cubatura è interessante. La nostra offerta è di 18 milioni di euro, di cui uno la firma del compromesso e il saldo a rogito. Sì, però guardi che l'anticipo è un po' misero, è meno del 10%. Hai ragione. Ma data la faticenza dello stabile, siamo abbastanza sicuri di incontrare delle sorprese durante la ristrutturazione. Succede sui palazzi d'epoca. Allora, che le dice? Claudio? Accettiamo l'offerta. Però la mia provvisione del 2% è a vostro carico. Va bene. Le devo chiedere una cosa per i miei inquilini. Dica. Il prezzo dell'affitto deve rimanere bloccato. Era una cosa a cui teneva molto mio padre. Deve tenerci molto anche lei, ai suoi inquilini. Gli sta facendo un bel regalo? No, lo sta facendo a lei il regalo. Un palazzo del Quattrocento, nel pieno centro storico di Roma, quella cifra... D'accordo. Accetto. Diciotto milioni di euro, Claudio! Che ci faccio? Mi cambio la macchina ogni tre mesi, come fai tu? No, regali un cogliede di diamanti alla tua bella poliziotta. E poi non è nuova, eh. L'ho appena fatta lavare. È sempre la stessa. A proposito, come va con la Luisa? Lasciamo perdere. Faccio due passi. Ispira, ispira. Mi l'ho detto. Ispira, ispira. Che vuoi? Pure qua viene rompe scatole. No, no, anzi, se vuoi tornare nel cortile, sei la benvenuta. Va bene qua, grazie. Senti, ma quello lì chi è? Ma che ne so, è un po' ropazzo che parla con le statue. Però sono bene. È uno nuovo, è da poco che sta con noi. La storia è un po' ropazzo che parla con le statue. Va bene, molto carino, ora basta, grazie. Proprio te cercavo. Vedo che ti piace travestirti, eh. Mi mimetizzo. È necessario, Claudio. Altrimenti non potrei aiutarti. Io non ho bisogno del tuo aiuto. Voglio solo sapere che cosa è successo a Luisa. Perché non mi riconosce? Perché i suoi ricordi legati a te sono stati cancellati dall'oblio. Oblio? Ma perché? Perché all'uomo non è dato di sapere le cose del cielo. Luisa non avrebbe potuto vivere sapendo che tu avevi rinunciato alla tua essenza umana per salvarla. E quindi mi avete cancellato dalla sua memoria? Il Signore ha esaudito una tua preghiera, Claudio. Ma questo non vuol dire esaudire una preghiera. Questa è crudeltà. Io mi ero innamorato. Tu stai diventando un angelo. Comunque dovrai rinunciare all'amore terreno alla fine del tuo tirocinio. Ah, perché adesso c'è anche un tirocinio. La mutazione è graduale. Se no sarebbe troppo dolorosa. Ma tu, a cosa servis? Mi vuoi dire chi sei tu? Ma te l'ho già detto, no? Sono Uriel, il tuo angelo mentore. Devo assisterti e insegnarti a... a captare le preghiere di chi ti chiede aiuto. Non è facile all'inizio. Anche se il cielo ci avvisa sempre. Certo. E come ci avvisa il cielo? Con dei piccoli eventi che anticipano quello che sta per accadere in grande. Dei presagi visibili per chiunque. Ma soltanto quando sarai un angelo maturo avrai il potere di capirli al volo e di aiutare chi ha bisogno. Cioè, prima mi portate via Luisa e adesso volete che aiuti chi ha bisogno? Beh, io non lo voglio. È chiaro? Io non sono portato per aiutare chi ha bisogno. Io non sono portato per essere un angelo. Io non... Sono pieno di vizi, va bene? Pieno di vizi terreni. E me li voglio godere. Me li voglio godere tutti. È chiaro? Non sarà così semplice. Ah no? Sta a vedere. Bacco, tabacco e venere ti sono preclusi ormai. Vedremo. Ciao Stefano. Eh Claudio! È una vita che mi si vede. Come stai? Il soldo? Grazie, il soldo. Gin Tonic. Bravo. Claudio! Beh, era ora che venissi a festeggiare. A proposito, venerdì non prenderei i pelli che faccio un brindisi con gli altri condomini da me. Assolutamente. Com'è che non mi hai ancora offerto da bere? Con tutti i soldi che ti ho fatto guadagnare, ti ho dato un braccietto. Gianni, un altro per voi. Anzi, vi servo da solo. Per i partiti domani. Un altro per me. A te. Grazie. Prego. Salute. Ciao. Ti ricordi di me? Ciao. Che ci fai qui? Cercavo te. E ti ho trovato. caffone. Affogaci nella tua vasca etromassaggio, stronzo. Tieni, grazie. Te ne faccio un altro. Sì, grazie. Grazie. Scusa, Claudio, lo sapevo che se stava rompe, non l'avevo ancora sistemato, scusami. Lo faccio riparare, lo faccio riparare. Perdonami, Claudio, veramente. Ne faccio un altro. Ne faccio un altro, dai. No, no, grazie. Ti prego. Grazie. Ne faccio un altro. Bevi. Tranquillo, offre la casa. Mi stai divertendo, vero? Non. Tu ne faccio un altro. Che cosa vuoi da me? Che altro vuoi da me? Salva Michele. Non c'è per gran cazzo questa massa, hai capito? Noi vogliamo i videogiochi. Lo sai che fai? Se le a casa tu e ce li vai a prendere, va bene? Eh, no! Che ci vuoi, dì? Fatta affari tua. No! 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 Sono loro che sono dei vigliacchi. No, sono io che mi faccio mettere sotto da tutti, è sempre stato così, da quando ero piccolo. A me sembra che hai reagito, anche troppo. L'altro po' gli spaccavi la testa con quella mazza. La prossima volta me la spaccano loro la testa. La prossima volta li guardi negli occhi. Un dritto negli occhi. Vedrai che non sta zardinando neanche ad avvicinarsi. Lo sai perché? Perché ora sanno che con te non si scherza. Tu sei molto più forte di quello che pensi di essere. La mazza è stretta così tanto che l'hai spriciolata. Veramente. Tu sei molto più forte di quello che pensi di essere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono buoni, fanno del bene. Volano. Io non volo, non ho le ali. Non voglio esserlo, hai capito? E non mi avrete. Mi sono spiegato? Mi sono spiegato? Mi sono spiegato con te. Gli angeli vanno pazzi per la musica, lo sapevi? No, non lo sapevo e sinceramente non mi interessa. Io voglio sapere solo perché sto scomparendo da questa foto con Luisa. Perché stai diventando puro spirito. Puro spirito? Sì. Quando sarai scomparso del tutto, l'oblio ti cancellerà dalla memoria di tutti quelli che hai conosciuto. Nessuno si ricorderà più di te e la mutazione sarà conclusa. Ho capito, ma non c'è nessun modo per interromperla questa mutazione. Io voglio soltanto amare, Uriel. Ma amare significa dare, Claudio. Anche il Vangelo lo dice quando parla del centuplo. Il centuplo? Sì, vuol dire che tutto quello che dai ti ritornerà indietro centuplicato. Sì, ma io voglio anche l'amore terreno. Io non voglio essere un angelo e da lassù non possono costringermi a esserlo. Certo che no. Alla fine del tuo tirocinio, se lo vorrai, potrai chiedere di ritornare umano. Ma questa è una bellissima notizia. E quando finisce il mio tirocinio? Dopo che avrai salvato tre anime. E allora non succederà mai? E perché no? Hai già salvato l'anima di Michele dalla dannazione con il tuo potere. Il mio potere? Ma come pensi che si sia sbriciolata quella mazza da baseball? Il tuo potere d'angelo è stato talmente forte che ha impedito un omicidio. Quindi questo vuol dire che ho salvato un'anima? Sì. E quindi me ne rimangono soltanto altre due? Giusto. E potrò finalmente ritornare uomo? Esatto, con tutte le sue piacevoli conseguenze. Insomma, mi stai dicendo che potrò di nuovo amare Luisa? Assolutamente sì. E allora tu aspettami, perché io salvo le altre due anime e torno prestissimo. Prestissimo! Caro generale, questo ragazzo è davvero innamorato. Non sarà facile per lui. Già. E non sa quanto potrà mettere in pericolo le persone che ama. Luisa! Luisa! Come fa ad averla? Tielle, che cosa sta succedendo? Assolutamente niente. Volevo soltanto scusarmi con lei. Non so cosa mi ha preso l'altro giorno. Lei voleva rimorchiarmi. Nella maniera più goffa che io abbia mai visto. Almeno questa è un po' più originale. Mi dice dove l'ha trovata la sciarpa. Come fa a sapere il mio nome? Se posso invitarla a cena magari le spiego tutto. Quasi. Perché insisti nel corteggiarmi? Perché penso che abbiamo tante cose in comune. E cosa le fa pensare che io non sia già impegnata? Beh, perché le donne impegnate hanno una luce diversa negli occhi. Ah sì? E che luce ho io? Una luce bellissima. Particolare. Sicuro Claudio neanche una grappina? No, ti ho detto di no, grazie. No, è che stasera non hai bevuto neanche un goccio di vino, ecco. Ma perché ti risulta io bevo alcolici? No. 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 A proposito, porta via anche il posacenere che non ci serve. Tieni. Posacenere? Sì. Non vi serve? No. E già. Non vi serve. Come fai a sapere che non fumo? Ho tirato a indovinare. Ah. E cosa fai nella vita oltre a fare l'indovino? Lo dovresti sapere. Avrei preso informazioni su di me, no? Beh, sì, sono un poliziotto, è d'obbligo. Tu hai degli appartamenti in affitto, vero? Ne avevo. Ah. Ne ho venduti per migliorare la qualità di vita dei miei inquilini. Non è stato grande affare. L'ho fatto per solidarietà. Te ne saranno grati? Altro che. Adesso stanno brindando per festeggiare. Anzi, se ti va possiamo pure fare un salto. E a cento metri da qua. Vabbè, si sta facendo tardi. Facciamo prima di andarci che a pensarci. Va bene. La sciarpa. Ah sì, me la dimentico sempre. Lo so. Come fai a saperlo? No, così. Come così? Ho tirato a indovinare. Anche su questa. Solo fortuna. Non lo facciamo per beneficenza. La mia società acquista bene i mobili ora perché i prezzi sono più bassi, quindi non abbiamo interesse a rivendere, almeno nell'immediato. Questo vuol dire che potete dormire a sonni tranquilli. No. Perché nessuno porterà via la vostra casa. E allora brindiamo a questi sonni tranquilli, no? Puoi venire un attimo, Roberto? Adesso? Sì. Chi c'è? Sì, sicuro che possiamo fidarci di quello lì. Quello lì ha appena sborsato un milione di euro sull'unghia senza fiatare, quindi ci fidiamo e basta. Sì, mi sembra tutto troppo veloce. Posso dirlo questo? Comandante. Buonasera. Lei deve essere l'ispettore di polizia. Bambine, andate in camera vostra. Lascio in te. Non ne posso più. Le posso presentare qualche amico? Prego. Insomma, il vostro contratto di affitto... Questo è il dottor Walter Semiazza. Walter. Walter ci sta salvando tutti da una situazione molto delicata. Non esageriamo, Roberto. No, no, è vero. Ma è un peccato che sia arrivata solo ora. Con lei qui sarei stato molto più convincente. Ispida, eh? Anche col Walter. Senti, Roberto, io non ne posso più, capito? Dai, amore, su. Cioè, appena Walter mi paga, ti porto a fare un giretto alle Maldive, va bene? Un giretto alle Maldive? Anzi, di poter recuperare tutto quel giretto alle Maldive? Beh. Lei è il polizio. Le bambine. Dove sono? A me. Devo andare a letto se in quanto tanto è. È possibile che deve essere sempre io a pensare a tutto. Ho capito, vabbè. Ma perché... Giada! Ambra! Shhh! Trovate? Spostatemi. Dal dietro, toglieteli dal dietro. Metteteli qua. Subito in caveroso. Immediatamente. Senza fiatare. Shhh! Sì, va bene, ma senza alzare la voce, va bene? Scusate. Che ne dici se ti offro una cioccolata calda a casa mia? Adesso. Sto al piano di sopra. Accomodati. Fai come se fossi a casa tua, eh? Vuoi qualcosa da bere? No, grazie. La cioccolata non c'era. Ma penso che questi siano meglio. Ma che mi hai spiato? Questo è il mio dessert preferito. Beh, anche tu hai preso informazioni su di me, no? Eh, sì, ma è il mio lavoro. Io vorrei sapere come tu hai preso delle informazioni su di me. Beh. Hai pianificato tutto. La sciarpa, il dessert, le candele. E quel piano? Scommetto che il piano lo suona a tutte le donne, che bello. No, 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 no. No, non faccio la suonatina prima di esaltargli addosso. L'ho reeditato a mia madre, ma non so suonare. Peccato. Anzi, no, ma cosa la so suonare? Ma solo con un dito, però. E' una ninna nanna. Ma solo con un dito, però è una ninna nanna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutta colpa della mutazione. La mutazione? È una storia lunga. Senti Claudio, io non so come ti faccia sapere tutte queste cose di me, ma io voglio una spiegazione. Diciamo che è come se ci fossimo già conosciuti. Diciamo che cosa posso fare, dimmi, dimmi, dimmi. Il ghiaccio, il ghiaccio in cucina per voi. Oh, che dolore. Arrivo, arrivo. Aiaiaiaiaiai. Eccomi, arrivo. Che dolore. Lami, lami la mano, qual è questa? Ah sì Meglio, piano, piano Sì Aia, 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 aia Sì, grazie, grazie Va bene? È che mi ha preso proprio qui sulle dita Adesso con il ghiaccio ti passa, vedrai Tienicelo sopra, eh Aia, aia, aia Oddio, il fuoco Spogli, spegni, spegni Spegni, spegni, spegni Vai, vai, vai Scusami Scusami, è stata colpa Dio, ma che cos'altro deve succedere? Scusami, l'ho spostato, non so come è successo Anche se il cielo ci avvisa sempre Come dei piccoli eventi che anticipano quello che sta per accadere in grande Ci devo andare Dove? Dove ancora non lo so, ma Ci potrebbe essere qualcuno che ha bisogno d'aiuto Del mio aiuto Ma ora è mezzanotte? Sì, sì, sì Credimi, è anche nel nostro interesse Devo andare, potrebbe essere la mia seconda anima, capisci? La tua seconda anima? Sì Ma come la tua seconda anima? Ti spiegherò tutto Tu puoi, sei se, poi rimani E devo salvarla, dimmi dov'è Dimmi solo dov'è Barburso? Barburso! Scappa, scappa. Che fate? Ma che vuole questo? Che fate? Tranquilla, non ti preoccupare. Come sei finita a dormire per strada? E te ti interessa? Così. Per sapere quello che ti è successo. Ero ragazza madre. Ho perso il lavoro e gli assistenti sociali mi hanno portato via mia figlia. Ma che ne sai che mi vieni in sastareggia? Cioè, hai mai avuto te il lavoro? E dove è ora tua figlia? E che ne so. La legge mi dovrebbe riuscire a sapere dove sta e con chi sta. L'hanno data in affidamento. Ma io potrei aiutarti a ritrovarla. Perché lo faresti? Perché forse ci guadagno qualcosa anch'io. Sapessi per quant'anni l'ho cercata io. Ma vedrai che la troviamo. Ma mica ti vuoi far vedere così da lei? Io questo so. Non ti preoccupare, ci penso io. Già ce l'ha detta, sto stronzata. Ma non è una stronzata. Sto per incassare, ve lo garantisco. Magari rispondi pure. Ma ti rende su, a vermi. No, basta, 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 basta. Ma ragazzi, non ci faccio i miei figli. Aia! Ma tu, tu, i miei figli, aia, vai! Ma giù su di là! Aio! Forse mi hai capito! Ti ho dato un giorno, che tempo! Lo vedi, sto terazzo? Ti ho ricevuto! Ma che fate? Tutto bene, Roberto? Tutto bene, tutto bene. Vero, Roberto? Roberto, da quanto tempo sei in guai? Un anno. E' per questo motivo che sei per i porti con Cosima, vero? Ma no. Lei sa solo che sono un po' in difficoltà. Però non sa fino a che punto. Di che somme stiamo parlando? La crisi mi ha ammazzato, Claudio. Sono fuori di 200.000 euro. 200.000 euro? E vai ancora in giro con quella macchina? Non è facile cambiare tre ore di vita. Soprattutto quando hai una famiglia. Però tu mi puoi aiutare. E hai appena incassato un milione di euro di caparra. Esci il prima possibile da questa storia. pensare ai tuoi figli. E di la verità a Cosima. Ma sei matto? Quella mi lascia in 10 secondi. Lei ti ama. Dalle un motivo per tornare a stimarti. Digli la verità. Grazie, Claudio. Oh, questo è un vattice di panna e cioccolato? Sono principe e io ho aperto io. Solo che non pensavo di trovarmi lei davanti. Beh, sì, sono tornata perché mi ero dimenticata lasciarpa l'altra notte. Gisela mi ha raccontato quello che è successo. Vi hai parlato anche un po' della sua vita. Ma che so, per me è quelli? Eh, sì. Davvero? Non per te. Vabbè, io forse è meglio che torno giù in portineria. Scusate, permesso. Arrivederci. Arrivederci. Vado anch'io. Ciao, Gisela. Ciao. Ti accompagno. La figlia è bianco e nero, poi non sono così diversi, no? Comincio a parlare della panna. Voglio chiederti una cosa per Gisela. Dimmi. Può aiutarla a ritrovare la figlia? Dovrebbe essere maggiore anna ormai. Posso provare a fare una ricerca al terminale? Potrebbe essere un anagrafico. Te ne sarò molto grato. Claudio, tu sapevi l'altra notte che Gisela aveva bisogno d'aiuto. Come facevi? Beh, non mi crederesti. Prima o poi dovrai spiegarmi tutto. Sennò come faccio a fidarmi di te? Spero di spiegartelo molto presto. Presto, ragioniere. Andiamo, andiamo. Grazie del passaggio. Michele si fa pronto soccorso. L'hanno picchiato. Devo andare. Scusami. Io li faccio sbattere in galera, quei delinquenti. In galera. Mi devo far rispettare da solo, ma. Ciao, Michele. Come stai? Ma, Claudio, io ci ho provato a guardarli dritti negli occhi. Ma mi hanno gonfiato lo stesso. Ma che è sta storia? Ma che me stai a dire? Che questo ti è sticato a far cazzotti con quei tempi. Ma no, al contrario, signora. Io ho soltanto cercato di... Ma ho capito perché eri così strano. Che ti ha messo in testa questo? Si può sapere? Mamma, lui non c'entra niente. Anzi, la volta prima aveva pure... Ma no, perché c'è stata pure una volta prima. Signora, ce ne sono state tante, ma e tu lo sai. Io le proibisco ad avvicinarsi di nuovo a mia figlia, capito? Non se deve azzardare. Mamma, piano. Puto, devi stare puto. E lei se ne va dall'istante, se ne deve andare. Quel bambino è stato massacrato di botte. Vi sembra giusto? Va bene, ho capito. Non devo vedere Luisa fino a quando non finisce tutta questa storia. Ho capito. Buongiorno Luisa. Buongiorno. Che sorpresa. E lei la sorpresa. Io ci lavoro qui. Ah sì? Ehi, buona, buona, buona. Non ti va. Come sta? Bene. Facevo due passi col cane. Come vede anche il Fato. Ha piacere nel farci incontrare. Ha ragione. Sa che anche io lo faccio qui dietro. Davvero? Sì. Non ci siamo mai visti però. Beh, ora ogni tanto ci vedremo. Perché no? Ci conto, Luisa. A presto. Ciao. E questo adesso chi è? È un imprenditore, si chiama Walter. Col Ferrari. E da dove spunti? L'ho conosciuto da una cena con Claudio. Ah già, Claudio, il pazzo. E lui che ha fino a fatto adesso? Vorrei saperlo anch'io. Quando sarai scomparso del tutto, la mutazione sarà conclusa e l'oblio ti cancellerà dalla memoria di tutti quelli che hai conosciuto. L'amore per Luisa ti ha cambiato. Amare significa dare, Claudio. Anche il Vangelo lo dice quando parla del centuplo. Tutto quello che dai ti ritornerà indietro centuplicato. Gli angeli vanno pazzi per la musica, lo sapevi? Ciao. Come stai? Io bene, e tu? Tutto bene, grazie. Sono due settimane che non ti fai vivo. Ho avuto un po' da fare. Senti, Claudio, se... se hai qualche problema, qualsiasi problema, io... io sono contenta di aiutarti, di ascoltarti. pensavo che tu... che tu fossi interessato a me. È così? Sì. Sì. Molto. Luisa, io devo parlarti. lo credo anch'io. Lo credo anch'io. Io sto subendo una... una mutazione. Me l'avevi già detto e... cosa stai diventando? un angelo. E mi è precluso l'amore terreno. Ti è precluso? Ma vedi che succede quando proviamo a stare insieme, no? Da lassù fanno di tutto per non farla accadere. Ma devi stare tranquilla, eh. Perché ho già salvato due anime. salvo la terza e ritorno uomo. Ma che cavolo mi stai raccontando? Te l'ho detto o non mi arresti creduto? Io sono stato scelto per far parte delle milizie celesti. Delle milizie celesti? Sì. È successo quando ci siamo arrampicati. Tu sei caduta, eri morta. Cioè, quasi morta. E io in quel momento ho chiesto al cielo di prendere me al posto tuo. E sono stato ascoltato. Solo che io non posso frequentarti adesso fino a quando non salvo la terza anima. perché sennò lo vedi quello che succede. Io lo faccio per te. Lo faccio per proteggerti. Non sono mai stata così offesa nella mia vita. Luisa, aspetta, aspetta un attimo. Tu vuoi solo giocare con me? Come tutti i miei beni viziati. Non è vero. Non è la prima volta che mi faccio afficare a uno stronzo. Ma ti assicuro che questa è l'ultima! Luisa. Luisa! Luisa! Aspetta! Luisa! Luisa! Con permesso. Va benissimo. Tutto bene, Luisa? Scusi, mi ha spaventato. Abbiamo appena finito e andavo a prendere un aperitivo. Vuole tenermi compagnia, Luisa. Scusi, mi ha spaventato. Scusi, mi ha spaventato. Perché no? Scusi, mi ha spaventato. Come mai così elegante? Anzi io mi ha invitato a mangiare la pizza in questa spettacqua sotto. Buona serata. Ma dimmi un po', ma Luisa ti ha fatto sapere niente di mi fia? No, è tanto che non la sento Luisa. Ma vedrai che appena saperà qualcosa si fa sentire direttamente lei. Senti, io ti devo dire una cosa su mi fia. Cos'è sta puzza? È un incendio, scappa! Luisa! Per favore! Io sono portiere, mi fate passare, per favore! Stia indietro! Resisti! Ma come sta? Forse ce la farà. Chi sono ospedale? Cosa fa? Oggi è di cuore, non sta combinando. Sta bruciata. A quando mi dispiace. Come sta, Gisela? Non è il pericolo di vita. Il focolaio si è sviluppato soltanto all'attico. Non c'è più pericolo. E allora possiamo andare? Come? Certo. Sei stato in servizio fino a quest'ora. No, era cena con Walter. Ti dispiace? Ti dispiace solo per come ci siamo lasciati. Ho sbagliato e non ti ho perduto l'aspettazione con te. Luisa! Maia! 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 Ho pregato tutta la notte. Le preghiere vengono sempre esaudite. E hanno una potenza che neanche ti immagini. E che ha già sofferto tanto, che mi dà. Ma dove sei stato? T'abbiamo cercato. Che fine hai fatto? Dov'è così? Se n'è andata. Con le bambine. Ma perché? Ho seguito il tuo consiglio. Vedete la verità? E ne sei andata. Vedrai che tornerà. Signor Cancellotti, c'è arrivata un'intimazione di sfratto a tutti gli inquilini da parte di Walter Semiazza. Ma come sarebbe? Avrò messo davanti a tutti? Nel contratto c'è una clausola che permette lo sfratto per cause di forza maggiore o emergenza o calamità naturale. E tra queste c'è anche l'incendio. Ha approfittato subito? L'aveva detto che non faceva beneficenza. E mo' ci sbatte fuori di casa a tutti. Luisa! Cosa vuoi? Non mi occupo io delle indagini. Delle indagini? C'è la possibilità che l'incendio sia stato doloso. Come doloso? E chi l'avrebbe appiccato? Non lo so. Ma visti i miei rapporti personali il magistrato ha dato l'indagine a Cesare. Ah, e allora ha di Cesare di indagare su Walter? Visto che è sparito e non si fa trovare al telefono. Walter è fuori Roma per lavoro. Perché lo cerchi? Per questa. Ha sfrattato tutti gli inquilini del palazzo. Avrà sicuramente le sue buone ragioni. Ma perché lo difendi sempre? Perché è generoso. Perché mi riempie d'attenzione. E perché si prende le sue responsabilità. Come fai a saperlo? Mi ha chiesto di sposarlo. Ma se vi conoscete appena... Non ho detto che ho accettato. Però mi piace perché un uomo che si espone e che non fugge e non dice tutte quelle cazzate sulle milizie angeliche... Lui si aspetta. Tu l'altra volta hai detto che non ti saresti fatta più fregare da uno stronzo, giusto? È vero. Beh, uno che fa questo. È il peggiore di tutti. Scusa, ho da fare. Ciao. Tutto bene? Tesoro, cos'hai? È venuto Claudio a cercarti al commissariato. Claudio. E che cosa voleva Claudio? Mi ha fatto vedere la lettera con cui hai sfrattato tutti gli inquilini. Aspetta, ho dovuto farlo. Quel palazzo è pericolante. Ti è rimpegnato a non farlo, Walter. C'è stato un incendio, Luisa. Quelle persone rischiano la vita se restano lì dentro. Ed io la galera perché, a quanto tu mi dici, è stato un incendio un po' strano. Hai ragione. È che non capisco chi poteva avere interesse da piccare un incendio. Non lo so. Magari qualcuno che avendo intascato un milione di euro di caparra voleva spaventarmi per indurmi a rinunciare all'acquisto del palazzo. Non ci posso credere. Perché no? In fondo che cosa ne sai tu di Claudio? Non è possibile, non lui. Potrebbe aver pagato qualcun altro per farlo. Stai facendo delle accuse molto gravi, Walter. Per carità, io non sto accusando proprio nessuno. Poi senza prova. Anche se forse le prove ci sono. Basta soltanto trovarle. Poi c'è il tuo ispettore capo che stai indagando, no? Vedrai che la verità verrà a galla. Già. Scusami, ma su questa faccenda voglio vederci chiaro. E voglio farlo subito. Il versamento corrisponde. 200.000 euro a mezzo assegno in favore di Roberto Varianti. Che bastardo. Luisa, io non voglio difendere quel pazzo. Ma questo versamento non significa nulla. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Anche una parcella professionale del dottor Varianti. Ah, sì? Deve avergli fatto un bel lavoretto il dottor Varianti per una parcella così alta. Non ti pare? Sì. Non devi scusarti. Sei un poliziotto. È giusto che tu voglia vedere in fondo le questioni. Mi dispiace solo aver dubitato delle tue intenzioni. È normale. Ci conosciamo da così poco tempo. È vero. Io non voglio perderti, Luisa. Non c'è motivo per chiaccare, no? No, è che io sono sempre indaffaratissimo con il mio lavoro. Anche tu con il tuo sei sempre così impegnata. Potremmo condividere di più le nostre vite se... Io voglio pensarci ancora un po', Walter. Sulla tua proposta, volevo dire. Nel frattempo nessuno ci vieta di frequentarci. No, certo. È che a me non basta più frequentarti. Luisa, io voglio costruire una famiglia con te. meravigliosa, Walter. Sposami, Luisa. Padre, io non ti conosco abbastanza per sposarti. E cosa c'è di meglio di un matrimonio? Per conoscersi. L'ho trovata, eh? Sappiamo dove abita e cosa fa. Stai contenta? Ehi, stai bella? Ma è stata meglio. Senti, te ne occupi tu di questa faccenda. Non voglio avere più a che fare con Claudio. Va bene. Se tra la domenica andiamo ad arrampicare? Non posso, Cesare. Ho promesso a Walter che avrei passato questo fine settimana con lui. Una volta non sarebbe bastato Rubino a fermarti. Ma non c'entra niente il Rubino, Cesare. E che Walter è l'uomo giusto per me? Mi piacerebbe sentirti dire che non puoi vivere senza di lui. Non che è l'uomo giusto per te. Perché te la prendi così? Perché quell'uomo non piace. Ha qualcosa di strano. Mi dici sempre la stessa cosa ogni volta che mi interessa qualcuno. Da anni. È vero. Ma questa volta è diverso. Ti stai per sposare con un uomo che conosci da meno di un mese. Cesare, io so quello che provi per me. Anche se tu non me l'hai mai detto. Io ti voglio un bene dell'anima e ci siamo divertiti tantissimo. Il problema è che non mi hai mai fatto battere il cuore. E lui? Lui te lo fa battere il cuore? Io sento che sposarlo è la cosa più sensata da fare per me. Io non ti riconosco più, Luisa. Allora, qua dentro c'è la foto della figlia della tua amica. È un'informazione riservata e confidenziale che io non ti ho mai dato. Chiaro? Grazie. Luisa? Luisa non vuole più vederti. È convinta che sia convolto nell'incendio del tuo palazzo. Cosa? Sa del bonifico di 200.000 euro che hai fatto a Roberto Parianti. Ma quello è un prestito che ho fatto a un amico. Posso spiegarle tutto? Non credo che ti ascolterà. Gliel'ha messo in testa il suo futuro marito. Quello con la Ferrari. E lei ci ha creduto? È totalmente sul culo. È cambiata. Il suo sguardo è cambiato. Hai ragione. Senti, tu non mi sei mai stato particolarmente simpatico. Ma quello con la Ferrari mi piace ancora meno. Quindi se tu tieni veramente a Luisa, fai qualcosa. Perché sei l'unico che può fare qualcosa in questo momento. Michele è stato picchiato a sangue. Roberto si è lasciato con la moglie. Giselle è in ospedale. Gli inquilini del palazzo saranno sfrattati da qui a poco. E lui si è completamente plagiato da Walter. E tutto questo per la mia missione. Un grande progetto scatena sempre grandi ostacoli. a volte più suddoli di quanto pensiamo. che vuoi dire? Tu non sei l'unico sulla terra che il Signore ha voluto con sé. Ce ne sono degli altri? Certo. Ogni giorno il cielo sceglie dei nuovi possibili angeli. siete tanti. Siete tanti. un angelo novice come te è una preda molto ghiotta per loro. stai attento. E che altro non mi possono fare? Sfingerti a rinunciare alla tua missione. Ma guarda, su quello non c'è nessun problema perché io non voglio fare l'angelo. Anzi, diglielo a quelli lassù. Io voglio tornare uomo, Uriel. Conosci le regole. Devi salvare tre anime. Io non ce la faccio. Non ho avuto più segni, presagi, preghiere. Dopo Gisella più niente. Tu hai salvato la vita di Gisella, non la sua anima. Vuol dire che sono rimasto fermo a un'anima sola? Il cielo ti ha portato da Gisella, ma non è detto che sia lei l'anima da salvare. Desidera? Manuela? Ci conosciamo? No. Ma io conosco tua madre. La tua vera madre. Mi lasci stare. Volevo solo dirti che ti sta cercando da molto tempo. Che vuole solo rivederti. Poteva pensarci prima di abbandonarmi e scomparire. Abbandonarti? Non gliel'ho detto che è stata lei a chiedere di darmi l'affidamento? Questo è quello che ti hanno raccontato. È la verità. Avevo nove anni. Me lo ricordo bene. Manuela, ma che devi fare? Vado. Tua madre aveva perso tutto. E non poteva darti il necessario. Ci vuole coraggio di abbandonare una figlia. Se l'ha fatto, l'ha fatto per te. Poteva chiedermelo. Avrei preferito fare la fame per rimanere con lei. E va bene, ha sbagliato. Adesso è pentita. E tu non hai più nove anni. Sei abbastanza grande per capire. E per perdonare. Allora. E va bene, non l'ha fatto. Allora. Allora. Grazie a tutti. 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 Luisa. Luisa! Tu hai rischi. Ehi, grazie a tutti. Grazie a tutti. Vieni. ma... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tu hai... di salvare... e tu... Sei il miglior angelo mentore che potessi incontrare E tu il mio migliore allievo Grazie Uri Ma chi è quell'uomo? Un vecchio pazzo che parla con le statue Però sa suonare molto bene Era da un po' che volevo dartelo Ti ricordi? Sì, mi ricordo sempre di più Però ci sono tante cose che mi devi raccontare Hai sentito? Cosa? Sembrava un battito d'Ali Era il mio angelo mentore che tornava in cielo Che significa? Sì, mi ricordo sempre di più Sì, mi ricordo sempre di più Sì, mi ricordo sempre di più